Con le discesse verso il basso, guidate per intenderci, vediamo se di noi stiamo sguardo in avanti e in basso. Ci piegiamo verso il basso, sguardo in avanti e in basso. Pireiamo la doma, inarghiamo sta colonna quando scendiamo. Inarghiamo sta colonna, bravo Tommy. Inarghiamo la colonna quando scendiamo. Prendiamo le ginocchia. Prega le ginocchia. Quattro volte. Facciamone un paio di ripetizioni. Facciamo un paio di soltanto. Mi può poterire appena qui. Mi può poterire appena qui. La colonna, gli arteri ulteriori. Facciamo un paio. Quattro in avanti. Uno per. Nuovo la nette laterale, all'intietro, forse laterale. Ecco il materiale di stessi. E' un rispetto. Un accusamento prima mentale. Un'inauggetto. 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 Quattro in avanti. Vai! fb 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti